E ancora una volta, qui il team Kisari al secondo posto per il team Small per quanto riguarda il top listing. Cosa mi sai dire del top listing, Valentina? Chiedi a Fabio. Ottimo, switch! Allora, cosa ci dici di questo top listing? Quanto è difficile? Che più listing fai, più secondi posti vinci. Ringraziamo il team Kisari, grazie ancora, ci vedremo sicuramente dopo.